Amore, forza! Dove ho fatto? Tagli il fuoco! Vai, ste! Vai! Vai, ste! Vai, ste! Vai! Mamma mia! Vai, 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 vai! Mamma mia! Ti sei fatti a fare l'olio? Eh? Aspetta che se no si sente sempre il video. Vai! No, Daniele è bravissimo. Allora, è primo? Vai, ste! 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 No! 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 No, non ci posso credere! Stefano, impromesso. Due settimane che salirà. Grande! Grande!